ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato come al solito ai vostri video eccoci qua come ogni tanto capita con le collezioni degli ascoltatori come diceva mike buongiorno è vero e cos'è altro che una rubrica nella quale voi mandate i video possibilmente in irrizzontali possibilmente ben fatti possibilmente spigliati nel eloquio e poi li guardiamo qua assieme guardiamo che orologio avete facciamo due commenti no io li faccio qua così in video live voi li fate sotto nella sezione commenti così la community come si suol dire riesce ad esprimere il proprio parere indistintamente come fare lo sapete qua in sovraimpressione passano le informazioni direi che manca l'orologio del giorno che oggi è questo simpaticissimo oris diver 65 in acciaio e bronzo uno dei pochi orologi realizzato in materiali con il bracciale anche in acciaio e bronzo e calibro sellita sv200 niente di particolare un orologio che indosso spesso con piacere perché mi piace un po il pulso mi sta bene è sottile no sottile compatto 40 mm bello 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 adesso diciamo di partiamo con il video vai ciao davide ciao roberto ciao roberto da dove sei quali siamo bene con la saga delle tovaglie perché i gattini i gattini su internet fanno sempre la loro sporca figura acchiappa bravo bella tovaglia speriamo che anche gli orologi vistoia un appassionato è un tuo grandissimo fan del tuo canale bravo sei veramente bravo a recensire a recensire gli orologi e ti voglio far vedere una mia piccola collezione vai dei quei pochi orologi che ho e non ti buttare giù cominciamo dai casio semplici casio ma questo un alzheimer caso semplicissimo altimeter non alzheimer cioè almeno saper leggere altimeter c'è scritto e non alzheimer va bene alzheimer non è che mi intenda tanto si vede va bene da illuminator cinque allarmi e quarzù sono buoni tutti passiamo a questo ciofeca ma no è bello classico casio è bello è bello di buono questo qui che classico comprato alla conad grazie per invece l'ho detto perché cambia tutto è uguale e vabbè alla coppia l'hai preso questo questo comprato alla decathlon della can g for del genere decathlon tanta roba un 5 un 5 atm atm bancomat multifunzione e va bene da un orologio al quarzo con subito di diver ma ora non so io cosa è sto orologio qua scusami un secondo ora qua sul sul fontello c'è scritto ceramic case cioè cassa in ceramica ma sta qua è una balla clamorosa cioè è la ciofeca sto orologio semplicemente perché ti dice ti dice le bugie le bugie qua dietro perché ceramiche case non è ceramiche case la ciofeca sta qua è una ciofeca dai 100 metri resistente all'acqua 100 metri ma quasi 100 metri e si sale di livello è già bene dai simpatico è faccio vedere per bene perché sennò non andiamo a letto allora va bene da altro brei o ma ultimo o ma anche questo super carino ma come carino l'uso per per tutti i giorni mettilo di notte che non si vede che dire la mia collezione è tutta qui io ti ringrazio se pubblicherai questo ma se il tuo canale da pubblichiamo da ciao 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 un po di allegria però ciao niente dai te gli orologi di prendi uno al conad uno al decathlon una copp e poi dopo fai vedere la collezione va bene da diciamo che come inizio può andare no ti diamo un inizio di una carezza di incoraggiamento no come dire insomma puoi fare di meglio è anche perché insomma non so quanto costano ma anzi un orologio solo un pochino decentino che tutta una serie di io non gli ho dato il ciofeca alert perché voglio dire però se li meritavano quasi tutti è cioè buh quarzoni mamma mia quelli con sub in che c'è scritto come subino non so nemmeno se se sono se quel se è autorizzato a scrivere quella cosa lì potrebbe essere anche una cosa non autorizzata però sito cassa ceramica cassa ceramica non è non lo so io non so cosa dirti mi avvalgo della facoltà di non rispondere dai mandami un altro video quando avrei qualche orologio un pochino più no dai tirati su andiamo avanti prossimo video vai ciao davide mi chiamo alessandro ho 24 anni e sono qui per farti vedere due degli orologi della mia collezione bravo due orologi molto belli secondo me partendo il primo il tudor per agosto 39 orologio tutto in titanio grado 2 dopo ora non resistesse bene graffi da ciò che avevo letto su internet ma come vedi è perfetto dopo quasi un anno di utilizzo ormai buono 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 orologio che sta molto bene il mio polso 17 grazie alla sua misura diciamo contenuta e veste perfetto bassi per poi passare ad un secondo orologio una cosa molto più particolare siamo sugli user art in collaborazione con costi di tracking top da un orologio che esiste soltanto in 178 pezzi al mondo meno male è qualcosa di stratosferico ora ci da un po di carica per farti vedere i piccoli secondi che ruotano e il cinturino in pelle di rospo nuovo l'ho appena comprato pelle di rospo e è qualcosa che non si vede tutti i giorni veramente veramente molto particolare l'ho avuto la fortuna di poterlo acquistare in concessionario e niente ti mando un saluto un saluto love 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 non si può vedere questo orologio qua cioè nel senso sappiamo tutti che costantin ciaikin è un signor orologiaio e questo qua è un diciamo una celebrazione della sua arte no perché è un pezzo da è un'opera d'arte diciamo va inteso come come tale identificativa del suo stile no io non lo comprerei nemmeno c'è ma nemmeno morto è cioè proprio non lo vorrei proprio perché non mi piace questo stile di orologio no un pochino così da luna park poi tutto tutto fatto bene c'è il suo valore tutto quello che vuoi ma è un po da luna park in questo momento della mia vita diciamo così almeno mi trovo una scusante non me la sento di indossare degli orologi di questo tipo fortuna che ci siete voi che li comprate e mandate avanti la specie detto questo il pelagos mi piace 39 purtroppo in titanio io dico che se non fosse stato in titanio e ci fosse esistito in acciaio io probabilmente un pensiero ce l'avrei fatto perché è proprio uno di quei tudor che hanno la propria personalità no identificativo mi piace con gli indici così geometricamente squadrati più che quelli a bicchierino del black bay per tederci complimenti per i due orologi e vai avanti così costati in cia chi vai evviva bella dave un saluto a te e a tutti gli amici del canale e oggi ti mando un video per aggiornare la mia collezione di orologini bravo cominciamo con l'orologio del giorno cos'è un bellissimo brightling cronomat longitude risalente al 1995 quindi lo possiedo da quasi 30 anni quest'anno ho voluto farmi e fargli un regalo l'ho fatto ripristinare esteticamente in quanto gli spigoli delle anse negli anni di uso scriteriato avevano perso la loro bellissima forma quindi è stato fatto un riporto laser su tutte e quattro le anse bel lavoro andrà facciamo vedere il bellissimo fondello col globo terraqueo è stato fatto un bellissimo lavoro di riporto yes non c'era più un'ansa intatta addirittura scheggiate bello da orologio che indosso spesso estate inverno forse l'orologio che preferisco in assoluto forse perché ci sono anche più affezionato è bella assai dai un orologio ogni tempo no come direbbero i piloti di caccia ogni tempo un orologio di tempo ecco bello mi piace il brightling cronomat mi è sempre piaciuto e piace anche tanto la mia amica pink candy che però lei lo chiama longin cronomat lei lo chiama così perché lei degli orologi non ne sa ha competenze in altri campi diciamo così ma è lì longin cronomat lo chiama è una storia lunga poi ve la racconterò poi passiamo alle new entry rolex date just 16 234 bianco bracciale oyster mai galli risale al 1993 e ha la particolarità di avere questo quadrante colore blue jeans molto difficile da trovare in più orologio che si presenta in condizioni strepitose e dove sei a fattoria con le sue anse belle appuntite orologio che non è mai stato toccato va bene a me piace molto a dire la verità piace molto a mia moglie e con infatti nelle quando si esce a cena si va a qualche evento lo indossa lei brava però ogni tanto lo indosso anch'io poi finiamo con l'ultima l'ultimo arrivo in collezione è in altro top sub mariner 14 060 anche lui come il day just quadrante trizio io sono un vintagista convinto soprattutto per quanto riguarda rolex e omega preferisco il trizio al freddo luminova anche questo l'ho comprato non perché mi servisse un orologio perché normalmente non mi serviva ma l'ho comprato perché l'orologio si presenta in condizioni eccellenti io sono abbastanza mania con delle condizioni estetiche qualche segnetto qualche graffio mi può andare bene ma l'orologio deve conservare le sue forme originali e anche questo negli anni fortunatamente non è passato da nessun maniscalco anche la corona perfetta orologio che indossato è sempre bellissimo anche se per molti è un banalissimo sub sì per me per me lui è il sub per eccellenza eccellenza bellino da non si è mai visto eh dai vuoi dire e voilà e vuole mia collezione si è leggermente ampliata bravo non in questa scatola non ci sono presenti i pmv che ho usato tutta l'estate se fosse c'è il maurice lacroix pontos che fosse te lo ricordi anche perché credo di essere l'unico ad aver presentato sul canale questo orologio e ce l'ho avuto anch'io sai 45 46 materiale composito fatto solo nel 2015 composito orologio che d'estate spacca alla grande per andare a comandare sul lungomare e voilà ma comandare lui un saluto a te a tutti gli amici del canale e viva la vita non mi sembrava così insomma va bene un po' mortino poi alla fine viva la vita ma i rumori di fondo quando registrate un video cioè assicuratevi almeno che non ci sia la moglie lavare i piatti o il gallo che canta dove se non ha fatto ria lì non si capisce quasi niente vabbè comunque il sub a me è uno di quegli orologi che lo vedo bello gli do il topo dico che bello ti lecco no come dire bravo te sei bravo c'è il sub sei bravo ma a me del sub non me ne frega proprio niente cioè è uno di quegli orologi che banali banali ecco banali poi vi potrete dire che anche ci sono anche altri orologi banali e voglia se ce n'è però il sub è proprio uno di quelli che però tra i tanti no tra i tanti e quello senza data così 14 60 è forse quello che apprezzo di più come ho sempre detto però io non sono un vintagista come te il freddo super luminova a me piace e non e non soprattutto non riesco a spendere delle mille mila euro come in questo caso per orologi degli anni 90 80 70 anche 2000 cioè calma i mille mila li spendo per orologi nuovi o semi nuovi questa è la mia filosofia hai capito ognuno c'è la sua comunque bravo dai begli orologini anche il punto sli che vai a comandare ma dove vai a comandare ma dove va prossimo video buongiorno a tutti giorno sono daniele da milano daniele mostrare la mia umile collezione umile diciamo che non porterò un grandissimo valore aggiunto non buttarti giù anche qualche un orologio forse non si è visto poco diciamo così partiamo dal mio orologio da viaggio cos'è questo bostock anfibia bello dai è simpatico ma diciamo che è carino gli ho messo anche la ghiera ho comprato anche una ghiera pepsi poi gli inserti per inserti adattatori per il cambio cinturino mi piace mi è piaciuto molto lo uso molto per viaggiare ma mi sta un po stufando non lo so perché però mi sta un po stufando ma no ma per quello che costa tienilo poi non darlo via cioè diciamo che lo uso poco classico che ci spero bella tanto tempo top skyx preso un paio di anni fa gli diamo il top devo dire che va bene sempre un orologio entry level no che proprio più entry level non si può e gli diamo il top allora c'è qualche problema io do il top si va a pancia qui non è che si va a scala quello che a pancia deve essere kx punto è perché 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 si è sempre bello dai c'è poco da dire tecnicamente quello che è a livello estetico secondo me davvero bellissimo ogni volta che lo indosso mi piace proprio tanto essa anch'io poi abbiamo comprato un crono e ho preso lui molto visto su questo canale l'ho visto in gioielleria ho visto anche la tua recensione mi era piaciuto proprio tanto poi anche il 40 mm sono la morte sua l'ho acquistato dai l'ho acquistato usato e devo dire che è anche messo molto bene come potete vedere io c'ho la versione a carica manuale che non ho scelto il manuale perché la data l'assenza della data mi torna meglio cioè proprio lì sulla versione automatica essendo un 77 53 al quale hanno riportato il poi il subcontatore ad ore 6 il simpatico sistema per regolare la data è il pulsantino incavato nella cassa a ore 10 no tintinti e va avanti la data ecco io quando almeno quando indosso l'intramatica a carica manuale metto l'ora chiudo metto su e vado hai capito perché poi spesso quando cambio spesso gli orologi poi mi dimentico di mettere la data in certi non vado in giro magari faccio una foto e si ma la data la foto è vecchia perché la data non è sbagliata la data è che tanto non la vedo perché si fa fatica a vederla se piccolina e mi dimentico di sistemarla no quindi senza data per me piccolo valore aggiunto e poi non è compro anche gli orologi col datario se mi piace mi piace poi ho preso questo bel seiko 5 carino l snx 77 77 però sentivo tutte che si lamentavano per il bracciale allora giustamente non ho notato anch'io però il lamierino e ho trovato su ebay senza troppe difficoltà il suo cinturino che non è seiko nel senso che è la morte sua che gli sta benissimo in maglie piene e devo dire che a parte anche l'aspetto estetico e anche il polso è proprio un'altra cosa come potete vedere gli inserti sono praticamente si magari c'è qualche spaziettino più o meno il suo e secondo me diventa un altro orologio molto più bello non lo so non so se qualcuno aveva avuto difficoltà a trovarli mi pareva di aver capito così non ci hai detto però cioè l'hai preso a caso c'è qualcuno che ha scritto veramente vendo bracciale adatto a questo modello qua perché non non l'ho mai visto io tra l'altro quali è una coppia spudorata del bracciale oyster di rolex anche con la clasp non gli banca e loghino e poi uguale identico però gli sta bene la azzeccata proprio è ora non so vedrai nei commenti qualcuno ti chiederà sicuramente il link dove l'hai comprato perché non c'è detto niente infine è meglio le serpentasonagli comunque infine questo seiko king king seiko certificato cronometro che non l'ho mai visto sul canale a meno non mi pare è molto bello esteticamente anche il fondello molto particolare e vabbè io lo uso come dress watch me lo uso un po quando mi va perché mi piace proprio tanto certo questo quadrante davvero incanteva i suoi segni del tempo ovviamente il 70 circa 72 e volevo sapere se qualcuno è a conoscenza di quanti di quanto per quanto tempo è stato prodotto perché ne ho visti pochi e sia su questo canale gli appassionati che comunque mercatini anche su sul web adesso non so se mi sapete dare una mano e niente ora mi viene un dubbio cioè io sinceramente non lo so un orologio giapponese certificato cronometro che la certificazione cronometro seiko osc solo gli orologi svizzeri la possono presentare e passare quindi un seiko cronometer officially certified a me non ora mi vengono tutti questi dubbi qua esiste cioè ragazzi questa è una cosa che non so ho finalmente una cosa che non so scrivetemi nei commenti so che ci guardano anche gli appassionati di seiko che sanno dalla a alla z di seiko non come me che ci capisco una minghia poi è veramente la scritta è veramente attaccata ora che ci penso la scritta cronometer è veramente appiccicata alla scritta seiko secondo me questo quadrante qua non lo so io non lo so ho dei dubbi a questo punto cioè ripensandoci certificato cronometro un secco aiuto aiutateci aiuto non lo so mi ritiro per deliberare come diceva santi riceri volevo vi ringrazio in anticipo e davide grazie ancora per il canale love 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 e niente rimarremo con questo dubbio qua su questo king seiko certificato cronometro non lo so io ma non lo so ripeto rischio anche di fare una figuraccia magari esiste veramente ma però non si può sapere tutto poi per il resto se è partito umile collizione non aggiungo niente valore aggiunto invece c'è dei belli orologini cioè l'importante già quando uno parte che non ha degli orologi presi a caso cianfrusaglie che avresti paura a toccarli così no è già già hai vinto poi col seiko 5 l'skx drammatic king seiko che vediamo se è tutto a posto cioè hai vinto ottimi orologi senza nemmeno aver speso troppissimo bravo 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 prossimo ciao davide ciao ed è tanto che volevo farti questo video meno male sono guido della provincia di taranto ti mostro i miei orologi va solo un po quindi sarò veloce insomma per i astano long jeans che bello automatico che bello questo tengo a precisare che la maggior parte degli orologi che ho non montano i cinturini originali sebbene questo caso è marchiato long jeans ma si vede questo non è il suo cinturino originalmente montava un cinturino in pelle con chiusura a clasp clasp questo è il classico casio a casetto che ho voluto nella mia collezione a batteria in cosia anche su un'icona l'icona questo emilton mechanical carica manuale bravo tutto satinato ci sta cinturino stile nato non originale ovviamente ci si mette quello che si vuole emilton frogman che carino questo qua particolare materiale titanio a titanio a questo mi piace di tra emilton un altro emilton kaki kaki automatico cronografo ciccione molto nulla da dire passiamo ad un altro brand che mi piace squale questo è l'ultimo modello molto recente di squale il 1545 acquistato negli stati uniti non è il suo cinturino originale anche in questo caso va bene molto bello rapporto qualità prezzo davvero elevato mi piace quale fa bello orologi e questo squale 15 21 ok non mi piace edizione eliminata limitata per gnomon gnomo acquistato circa un paio di anni fa questo non mi piace molto bello a me le ghiere lisce così senza numeri non mi piace ancora modello gmt sub 39 sub 39 bello quella cassa lì quella cassa lì è bello acquistato appena uscito circa due anni fa mi piace tantissimo ebbè siamo due e l'ultimo squale foglio lungo 15 21 anche questo anche questo versatilissimo è certo bello mi piace ci piace anche a noi questo è un orologio che ho voluto cercato inizialmente era disponibile solo nella dimensione 42 mm poi edizione limitata tra l'altro poi uscita diciamo questa versione 39 mm non limitata ho subito sono subito passato l'acquisto insomma ma si mi piace molto 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 a me mi è un po passata e zeus swordfish 40 mm molto molto bello movimento sego nh35 questo brand è avuti diversi alla fine mi è rimasto solamente lui ritengo sia davvero un buon orologio per quanto poi è stato pagato circa 230 dollari più una trentina di euro di video buono buono sono velocissima da parte del sito internet veramente efficiente consiglio l'acquisto qualora vi piacessero il loro modello bravo grazie per i consigli questo è un fortis questo l'ho acquistato negli stati uniti ho alcuni dubbi sulla sua originalità materiali sono davvero ottimi non è quello che diciamo costituisce dubbi ma quanto la lettera t che indica presenza di trizio su un modello che è praticamente nuovo e ne ho visti tanti in vendita negli stati uniti i finali sono pieni mio padre aveva un modello molto simile i finali erano vuoti magari a gli aggiornamenti su questo non so cosa dirti non so cosa dirti però la scritta t sui smedti significa che il quadrante contiene il trizio su questo non ci piove questo qua non contiene il troppo sono stampati forse c'è super luminova ma se c'è potrebbero essere anche bianchi io ho già la seconda volta anche oggi che do il top e poi dopo non avrogio che non ci sono dei dubbi porto sfiga allora non lo so sicuramente questa incongruenza che porta a pensare cioè io lo aprirei anche una ricerca fai una ricerca è possibile che ti fermi così e vai a chiedere al primo al primo scemo che fai video gli vai chiedere se perché non lo so dovrei fare una ricerca anch'io ma falla te apri guarda che movimento c'è dentro no già da lì vediamo se c'è un nh 35 ecco fatto che un miota dei dubbi ti vengono certi la certezza ti però sicuramente c'è qualcosa che non va sì poi questo è un dono di mio padre universa geneva automatico bello se non sbaglio petit prince non ricordo bene comunque molto bello mi piace cinturino originale in acciaio che conservo poi battaglia ecodrive promaster promaster come promaster questo è uno degli ultimi orologi che ha posto mio padre un altro universo geneva subacqueo al quarzo il conservo ma stirologi qua saranno sono universa geneva al quarzo boh brightling brightling cronomat top modi vediamo se è falso anche questo poi questo è uno dei miei ultimi acquisti un nomos neumatic 38 mm questa è la versione sub mantiene un aspetto molto classico tipico del brand bauhaus adatto al mio polso che è 16 mm e 16 centimetri e mezzo ci piaccicchia dai poi tutto questa edizione arroz bella è top questo sì che mi piace tanto però non riesco a interessare molto facilmente questo diciamo spessore spessore e lo so che spessore ma perché tutto il proprio li fa così gli orologi e li fa con questa con questo lato caro veramente alto che va a mangiarsi sia lo spazio del fondello tutto non cerca di smussare è così è un tratto stilistico non è che è spesso così se te prendi un orologio lo metti di fianco così se è un tudor lo riconosci quello lì è un tudor poi ci sono quelli che lo copiano e allora è un altro discorso ma se no è un tratto distintivo bisogna farci un piacere cioè ci si fa l'abitudine non è la fine del mondo e mi limita un po nell'utilizzo differenza del suo fratellino chi è questo qui black pay 58 si ma anche lui vedi che c'era da e dai al blu che utilizzo tantissimo tantissimo bravo poi poi questo 36 mm niente da dire no so che ne possiede anche tu uno simile la 39 quello da uomo io c'ho quello da uomo poi questo è il regalo di papà per il matrimonio top che regalo di mariner del 1993 indici virati come è possibile notare notiamo notiamo bell'orologio versatile speedmaster risanita ultimo modello topone beh c'è una bella collezione indosso tanto tanto un altro speedmaster edizione limitata 2 998 con una scala pulsometrica anch'esso con cinturino custom bello ci sta va bravo si è promosso ancora oyster 34 mm dai al verde mi piace tantissimo 34 mm po da shimail e infine so che non ti piace batman o batgirl acquistate l'occasione di una un passaggio di livello lavorativo bravo grazie davide spero ti sia piaciuta la mia collezione e spero di vederla caricata sul tuo sulla tua pagina youtube ma ce l'hai fatta ciao ciao oh e insomma dai collezioncina niente male un po rolex centrica no ce n'è un bel po di rolex di batgirl shimail girl tutto quello che vuoi te beh gli orologi l'unico dubbio su quel forte slick un t suiz med t che io ci andrei a fondo cioè ce l'hai te in mano l'orologio aprilo studialo e giungi a una conclusione anche se io credo che la conclusione t suiz mediti non c'entra niente quindi c'è qualcosa che non va per il resto si è promosso bravo 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 dai mi sembra di aver detto tutto ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i video e il fatto che li abbiamo commentati assieme che li commenteremo assieme perché vi invito a lasciare che i commenti qua sotto e non mi resta quindi che ringraziarvi e ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube l'hove l'hove l'hove